Un abbraccio virtuale a tutti voi ragazzi, io sono il professor Carriero, sono professore ordinario di radiologia nonché presidente del corso di laurea per i tecnici di radiologia e radioterapia. Questo corso è un corso ormai storico per la nostra facoltà in quanto ormai ha una datazione decennale. Abbiamo laureato tantissimi ragazzi e con orgoglio e con soddisfazione direi anche per l'opportunità lavorativa che si offre posso dire che è un corso di laurea che dà preparazione, che dà impostazione anche dal punto di vista dell'approccio etico e poi soprattutto in questo momento storico dà anche grandi opportunità di lavoro. Il corso si svolge in tre anni, è caratterizzato da un tronco comune con materie di base e successivamente, questa è una delle cose più importanti, è caratterizzato da un approccio professionale, quelle che sono cosiddette le materie professionalizzanti. In cosa consistono queste materie? Nell'imparare il mestiere, perché come sempre nella vita chi sa fa, chi non sa la racconta. Il mio obiettivo nella presidenza di questo corso è stato che i tecnici di radiologia e di radioterapia gestiti direttamente dal professor Crenkli di medicina nucleare, gestiti dal sottoscritto con il dottor Sacchietti, una volta laureati sappiano fare davvero tutto. Poi lo spazio per per perfezionarsi c'è sempre. Io adesso passo il video al dottor Stoppa e alla dottoressa Camerone che vi mostreranno brevemente alcune delle nostre risorse tecnologiche per insegnarvi il mestiere. Tanti auguri per il vostro futuro e un abbraccio virtuale a tutti. Buongiorno, io sono Camerone Patrizia, coordinatore del corso di laurea, mi occupo dell'organizzazione del tirocinio professionalizzante che si svolge nell'arco dei tre anni. I settori in cui gli studenti devono svolgere il tirocinio sono i settori di radiologia tradizionale, angiografia ed emodinamica, tutta la parte di attività interventistica, mammografia e poi ci sono i settori specifici di radioterapia e medicina nucleare. Buongiorno a tutti, sono il dottor TSRM Marcello Stoppa, sarò il vostro tutor di risonanza magnetica. Sono uno dei tanti tutor e non vediamo l'ora di mostrarvi quanto è bello e quanto ci si appassiona fare il nostro lavoro e in particolar modo spero di farvi appassionare alla risonanza magnetica tanto quanto è piaciuta a me. Benvenuti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!